Bologna è una città tuttora gemellata al comune di Portra, ma il gemellaggio assume un valore assai più importante se consente ai giovani di incontrarsi, così come è avvenuto a voi. Quindi creare questi punti al di là dell'oceano, mantenervi vivi in un mondo in cui chiedo a voi ovviamente di allargare le vostre menti e quindi avere un amico dall'altra parte della terra vuol dire che magari, che ne so, quando andrete all'università farete un programma overseas, sapete che là c'è un vostro amico e comunque quando avrete l'opportunità di andare all'estero voi andate più preparati perché avete vissuto sulla vostra pelle quella che è la difficoltà dell'adattarsi alla diversità. Il comune ha investito allora e ha investito a lungo in questi scambi internazionali con l'obiettivo di avere comunque, dare dell'opportunità ai cittadini per essere più aperti, più disponibili, più impegnati socialmente. Innanzitutto è stato molto bello uscire dall'Italia e andare in un altro paese. È stato molto interessante scoprire una cosa diversa e anche abbattere un po' i pergiudizi e scoprire invece delle cose nuove. La prima volta che ospitiamo un ragazzo l'esperienza è stata bellissima. La verità all'inizio è stata molto... avevo molta ansia perché volevo che fosse al meglio quindi volevo organizzare dal cibo alle gite ma alla fine è stato tutto molto naturale e l'abbiamo accolto come uno di famiglia e quindi abbiamo seguito la nostra routine con qualcosa in più ovviamente. Mi scusi, per l'America? Ci sei arrivato figliolo. Lo immaginavo. Ciao a tutti. Ecco qua il reportage direttamente da Portland, situata al nord della West Coast, nello stato dell'Oregon. La mia famiglia era fantastica e con loro mi sono trovata davvero più che bene. La spontaneità era una delle regole più importanti, tanto che non mi sono mai sentita fuori posto. Mi trattavano esattamente come se fossi parte della famiglia, nonostante mi conoscessero da pochissimo. Due settimane sono passate troppo in fretta. Caffè, grattacieli, artisti di strada, mastodontici ponti che attraversano il fiume e Mount Hood tutto bianco che svetti in lontananza. Poi like nel deserto con la mia famiglia americana, i classici camion, i corvi appoggiati sui cartelli di legno che sventolano con il vento. Le strade che si perdono tra le montagne, le stazioni di servizio con le jeep e la mucca nel rimorchio. Poi l'oceano, l'acqua gelata, le casette sul mare, in legno come tutte le altre. La nostra vacanza si prospetta tutt'altro che tranquilla. A giugno 2009 è il turno dei ragazzi americani ospitati dalle famiglie bolognesi. Io mi sto divertendo molto perché comunque Cristina, la mia ragazza portlandiana, è molto simpatica. È un'opportunità per conoscere un altro tipo di vita. un altro tipo di cultura, la lingua e questi ragazzi non parlano un italiano. Mi trovo molto bene, è simpatico, ci troviamo molto bene insieme. È un'esperienza molto importante, da fare assolutamente sempre, viaggiare all'estero è un arricchimento. È strano un po' parlare in inglese, averla in casa e sentire anche i miei che cercano di parlare in inglese, però è divertente in fondo. Per noi fortunatamente non è un problema avere un ragazzo in più a casa e quindi ci divertiamo molto e siamo tutti felici e aggiungiamo un po' a tavola. It looks to be a very exciting trip. Ciao! Un gruppo di giovani di Portland, città gemellata con Bologna, è stato ospitato da alcuni ragazzi bolognesi nell'ambito di uno scambio internazionale. L'assessore alle relazioni internazionali Matteo Lepore ha incontrato il gruppo a Palazzo D'Accursio. L'assessore dei giorni internazionale di una famiglia italiana, invece di essere un visita in una città, è stato molto bello. È un'amica di violenza, è un'amica di violenza, è un'amica di violenza, è stato molto interessante, perché ho mai pensato di un'amica di violenza. La mia omologa si chiama Lidia ed è molto carina e viene da Portland. Loro ovviamente hanno tutte le loro attività, però nel pomeriggio cerchiamo di trovarci tutti insieme, di uscire la sera, anche nel weekend cerchiamo di organizzare qualche gita. Stiamo andati a Ferrara, stiamo probabilmente organizzando di andare a Ravenna. Portland si trova nello stato dell'Oregon, nella costa nord-occidentale degli Stati Uniti d'America. Sono arrivato qui insieme a otto ragazzi, Elena, Francesco, Marta, Letizia, Camilla, Alice, Diego e Matilde. Insieme a me c'era Elena, l'accompagnatrice, e ad accoglierci Sally e Karen, che ci hanno fatto da guida facendoci scoprire Portland e l'Oregon. La città di Portland è gemellata con Bologna dal 2004 e dal 2009, grazie all'Ufficio Giovani del Comune di Bologna, è attivo uno scambio estivo che permette ai giovani delle due città di trascorrere un periodo all'estero ospitati in famiglia. Più o meno tutti hanno un po' lo stereotipo del classico degli americani, delle loro auto e dei fast food. Del ragazzo americano, Ganzo, che guida delle casette. Lo stereotipo più comune era quello dei americani che mangiano troppo. Frigo sempre pieno di schifezze varie. Dopo essermi ritrovata a fare una camminata di cinque ore con persone molto salutari, direi che è andato quello stereotipo. La mia famiglia, devo dire, è molto sportiva. Fanno degli allenamenti pesissimi che io non oserei mai fare, si svegliano alle sei. Il padre della ragazza è vegano, mangia molto salutare. Mentre a Bologna è il comune che si occupa di organizzare le attività dello scambio, in America è tutto gestito da un gruppo di volontari, la Portland-Bologna Sister City Association. Questa è la terza volta che abbiamo avuto studenti da Bologna in Portland e non potremmo essere più accettati. We are doing this on a year-to-year exchange. So we were able, through this program, through this exchange program, to have Matthew visit Bologna last year and stay with the family there. Fun to have an extra girl in our house. We have three daughters, so now we have four for a while. So it's a little more chaotic than usual. Amazete how many similarities there are and not so many differences. People are people and they really desire to overcome cultural barriers and get to know one another. And I think that that's what is important about exchange programs is there's so much that we have in common to share as opposed to the differences that the media always makes it out to be. And we have many similarities and I think that's the wonderful part about it. Can link, can get in touch, can create friendship for the City Council of Bologna and the City Council of Portland. This is very important because we are the sister city. We are an international city and a cultural city. So for us it's really important the exchange with new people and other countries. Make funny things. So, and I want to continue the relationship that we have in the future. Thank you very much, welcome. We are here today to festify this decennale of gemellation between Portland and Bologna. We know that, at least from here, Portland is a little bit considered the capital American of the bicycle. The gemellation between Bologna and Portland is brought on for 10 years from the association La Vita Bella, which is an association of Bologna that, with the association Bologna Portland-Sister City, helps protect this gemellation between cities. For 10 years, I think it's more similar to the two cities. specialmente, an example of the bicycle today, because Portland is a city of bicycle and today there is this event with bicycle. I think it's a symbol of this relationship and the things that change. One of the things that we have to do is to keep the idea of as sponsors and do a certain way. The professor Nadiamonti giving the welcome, has wanted to interview with one of the guys from Portland for us. Okay, John, I'm Nadia Monti, so welcome to Bologna. Thank you, it's wonderful to be here. Quali vostra impressione di essere qui? Wow, in generale. Mi piace l'ospitalità. Mi pensavo che sia stato il museo più interessante perché della storia. E quindi, si può immaginare quello che Bologna era come centri di anni fa. C'è una cosa strana da dire, però in Italia abbiamo tutti gli edifici alti, mentre lì tutti gli edifici sono bassi perché hanno molto spazio. Quindi davvero, non fatevi prendere dalla paura che non ci saranno i tortellini in America perché magari non ci saranno i tortellini ma ci sarà qualcosa che amerete magari di più dei tortellini, quindi buttatevi perché non ve ne pentirete. Ok. Hi Pino! Ciao! Ciao! So, today we are here in an interview and I will ask you some questions for about what's your job? Oh, hi! So, my name is Maria and I work in finance and I work for Nike the number one sneaker and apparel maker. Really? My name is Andy and I sell material to Nike. What kind of material? Footwear material. Where does it go? In the shoes. In the shoes. And why did you decide to let her do it? Because I'm a big believer that you should travel outside of where you have grown up and this seemed like a good way to bring some Italian culture into our house and let her experience Italian culture. You want to say to the world war? This should be in the vlog. This should be in the vlog. Yeah. So, Pino and I have run twice today. This will be in the city hall of Polonia. Oh! Excellent. Oh, start over! Oh hey look! That's a nice log! I'll get you in the park. Nothing. Oh my goodness! So, today's I got married I got married So, we are over I made a small dog Can you go through this? I do care interesting Grazie a tutti.